Durante i campionamenti nella Serra Tropicale del Muse abbiamo rinvenuto alcuni esemplari di una piccolissima lumaca appartenente a una specie completamente nuova per la scienza. Le analisi morfologiche e molecolari condotte anche in collaborazione con l'Università di Poznan in Polonia ci hanno consentito di attribuire questa specie alla famiglia dei ratuisidi, una famiglia di lumache poco note che sono diffuse dall'Asia orientale fino all'Australia. Questa specie in particolare ha origine ignota, non sappiamo esattamente qual è la sua area di provenienza. Le è stato attribuito il nome di Barcherella musensis in onore di Gary Barker che è un malacologo neozelandese e ovviamente in onore del Muse che è il luogo in cui questa specie è stata rinvenuta.